Amici di EstraTV ben trovati al nostro consueto appuntamento settimanale con la serie Doc Crime. Questa sera affronteremo un caso storico di uno dei delitti più controversi e più dibattuti della storia criminologica italiana, un delitto che ha toccato vari aspetti, quello politico, quello sociologico, quello letterario. Parliamo del delitto dell'idroscalo, quello di Pierpaolo Pasolini. Con noi l'autore e il regista Paolo Cochi. Buonasera. Cosa accadde nell'ultima notte di Pasolini che poi non è altro che il titolo del documentario? È quello che cerchiamo di capire in questo documentario e che purtroppo non si evince. Sono anni che si cerca una verità. Questo documentario era stato già realizzato, ma è stato poi rivisto per la morte di Piero Pelosi. Ecco, Pelosi è l'unico punto certo, è l'unico punto cardine dell'inchiesta di Pierpaolo Pasolini. Si è arrivati a un colpevole, ma probabilmente non era solo su quella scena. Ma sappiamo con certezza che non era da solo e quindi vi sono tutta una serie di interessanti osservazioni e approfondimenti nel documentario. Ecco, secondo la Weltamschaung, quindi il punto di vista storico dell'epoca, Pasolini chi era? Pasolini era un intellettuale, era un poeta che negli ultimi anni, e questo si evidenzia molto nel documentario, era rimasto da solo. quindi anche quelli che solitamente politicamente gli erano vicini lo avevano abbandonato. Forse questo ha creato intorno a sé un clima che ha permesso a chi compie quello omicidio di farlo e farlo in tranquillità. Anche in questo delitto non sono mancati i complottisti. C'è chi vi ha avvicinato alla figura di Carminati, ad una foto, c'è chi ha parlato di furti, quindi atteniamoci a quelli che sono i fatti e atteniamoci a quella che è l'inchiesta che Paolo Cochi ripercorre nel suo documentario. Buona visione, ci vediamo dopo con il dibattito degli ospiti. L'intelligenza non avrà mai peso, mai, nel giudizio di questa pubblica opinione, neppure sul sangue dei lager tu otterrai da una dei milioni d'anime della nostra nazione, un giudizio netto, interamente indignato. Il reale è ogni idea, il reale ogni passione di questo popolo ormai dissociato da secoli, la cui soave saggezza gli serve a vivere, non l'ha mai liberato. mostrare la mia faccia, la mia magrezza, alzare la mia sola puerile voce, non ha più senso. La viltà avvezza a vedere morire nel modo più atroce gli altri, con la più strana indifferenza. Io muoio, ed anche questo mi nuoce. Anche l'ultima richiesta della Procura di Roma sulla morte di Pierpaolo Pasolini, ucciso all'idroscalo di Ostia il 2 novembre 1975, è stata archiviata. Secondo la Procura, non è stato possibile dare un'identità a quei cinque profili genetici riconducibili ad altrettanti soggetti probabilmente presenti sulla scena del crimine, oltre a Pino Pelosi, l'unico condannato per il delitto. Il corpo martoriato di Pierpaolo Pasolini fu trovato da una donna di Borgata, alle 6.30 del mattino di domenica 2 novembre 1975, in uno squalido spiazzo dell'idroscalo di Ostia. I due si appartano nello spiazzo fangoso dell'idroscalo, poi la colluttazione. Pasolini resiste, cerca di sfuggire alla fuga dei suoi assassini, quando strammazza a terra, colpito con ripetuta violenza, con un grosso pezzo di legno e ancora vino. Ma Pelosi si infila nella potente alfa e nel buio passa più volte sul corpo dello scrittore, sfigurando e uccidendo. Pelosi viene arrestato poco dopo. Nella notte tra il primo e il due novembre del 1975, in una notte non molto fredda, viene ucciso a Roma Pierpaolo Pasolini, poeta, scrittore, una grandissima voce critica veritale, uno di quelle che oggi come oggi ci avrebbero detto sicuramente cose molto più intelligenti della media di quelle che ascoltiamo in televisione. La morte di Pierpaolo Pasolini viene subito risolta per la squadra mobile di Roma e è stato Pelosi Giuseppe, un 17enne che si fa fermare in lungomare Duilio a Ostia, a 4-5 km dalla scena del crimine, mentre guida proprio l'auto di Pasolini. Contromano, a forte velocità, viene fermato da una pattuglia dei carabinieri e il giorno dopo confessa quello che inizialmente era soltanto un furto d'auto, viene ritrovato il carabinieri, però si confessa anche l'omicidio. Il caso sembra dunque essere immediatamente risolto, è un delitto nato e finito nell'ambiente degli omosessuali. Pasolini ha rimorchiato il ragazzino a termini, lo ha portato prima a cena sulla di Ostiense e poi sono andati a finire all'idroscalo, dove dopo un primo mezzo rapporto c'è stata una vite per altri motivi e alla fine di questa vite Pelosi è assassinato Pasolini. Nel 1975, cioè il 2 novembre del 1975, io facevo la seconda media, dunque di Pasolini credo che sapessi veramente poco o niente, se non che era un regista, se non l'aula della fama che aveva. Ma non più di questo, ero un ragazzo di seconda media e dunque non avevo questa capacità di attualità. Ero in seminario, cioè un seminario di frati minori cappuccini, con educazione fortemente religiosa. Il 2 novembre eravamo pochi seminaristi, perché? Perché essendoci un ponte e la festa, molti erano andati, quelli che abitavano vicino, dai propri genitori, nelle proprie case, io avevo invece i miei genitori lontanissimi e 6-7 di noi rimanemmo lì. Stavamo apparecchiando per l'ora di pranzo, considerando che il pranzo iniziava anche sempre con una preghiera, io avevo una grande stima di quelli che erano i miei superiori, che erano questi straordinari frati. E mentre sto apparecchiando, accendiamo la televisione per il telegiornale e per il nostro direttore. E al telegiornale annunciano la morte di Pasolini. Io credo nell'ingenuità dell'età, nello sgomento delle notizie, nelle prime immagini, cioè quelle che mandarono in quel momento del corpo di Pasolini all'idroscalo, che sono state immagini che io ho inseguito poi per tutta la vita per poter acquisire le foto vintage di queste... Subito mi rivolsi al mio direttore aspettando di annunciarmi quello che era accaduto, la morte di un poeta, l'aver ammazzato un poeta. E lui in quel momento dalla cucina sta entrando nella sala e io dico al mio vice direttore, hanno ammazzato per Paolo Pasolini. Lui guarda la televisione, guarda le immagini e dice hanno fatto bene, bene, sono felice, sono veramente contento. Un altro frate lo raggiunge e l'altro frate applauda. Questo si chiama offesa a un cadavere, blasfemia nei confronti della morte e lì è accaduto per me un cortocircuito, cioè qualcosa di forte. Soprattutto ho capito un elemento, un odio incredibile nei confronti di quel poeta. E cioè che faceva parte proprio, l'ho capito poi negli anni, dell'humus della terra italiana. Tanto che sono sempre più convinto in maniera mitopoietica che l'uccisione di Pasolini indipendentemente da chi l'ha compiuta, come è stata compiuta, è la realizzazione di un desiderio collettivo inconscio del popolo italiano. E cioè che si è realizzato un desiderio. Ovviamente poi bisogna cercare i capi spiatori, giustificare anche il proprio odio. Ecco una morte meritata, più che meritata, cercata. L'ambiente, Marchettaro, Romano, l'omosessualità, i ragazzi di vita, tutto quello che sia. Praticamente già il 7 novembre, una settimana dopo, sull'Europeo cominciano ad uscire degli articoli firmati da Oriana Fallaci e da altri colleghi dell'Europeo, i quali raccontano una storia diversa. Si parla di due motociclisti che avrebbero inseguito l'auto di Pasolini già da termini e che avrebbero poi fatto l'aggressione nel piazzale brullo e buio, totalmente buio, dell'idroscalo. Si parla di un pestaggio nato per caso, nato probabilmente, però poi precisano meglio per un tentativo di furto. Gli volevamo solo ai portafogli. Ecco, a questo punto la questura si rende conto che il caso è decisamente più grosso e che non può essere archiviato in due parole. Cominciano le retate nella zona di termini, le perquisizioni, i controlli. Si cerca di identificare chi abitasse nelle altre baracche dell'idroscalo. Seconde case in cui quella notte forse dormiva qualcuno, forse no. Non si viene a capo di niente, alla fine rimarrà l'ipotesi pelosi, anche se l'Europeo continua a insistere sul fatto che c'erano più persone, che la cosa era stata organizzata, che pelosi non era solo quella notte, che probabilmente non è stato nemmeno lui, eccetera. Nel 76 tocca al processo, cioè al Tribunale dei minori, fare quello che non ha fatto l'inchiesta prima, cercare di capirci qualche cosa. Il verdetto di quella corte è molto interessante. Omicidio in concorso con ignoti, quindi ignoti. E qui il colpo di scena. La Procura Generale, che dovrebbe indagare perché il Tribunale gli ha detto guardate che ci sono degli ignoti, la Procura Generale, cioè quella che guida tutti i pubblici ministeri di Roma, dice no, perché indagare? Noi non siamo d'accordo, cioè fanno il contrario di quello che dovrebbero fare per diritto e si battono, appellano la sentenza, sì, ma proprio per dire cancelliamo gli ignoti. Questo 24 ore dopo. È una cosa veramente allucinante e inspiegabile. Per la morte di Pasolini, l'unico colpevole resta quindi Giuseppe Pelosi, detto Pino, che nel 1975, epoca dei fatti, era minorenne. Venne condannato a nove anni e sette mesi di reclusione. Di recente ha rilanciato più volte l'ipotesi secondo cui la sera del delitto non fosse solo in quello spiazzo all'estrema periferia della capitale, poco lontano da un campo sportivo e alle spalle delle capanne dei pescatori dell'idroscallo di Ostia. La vera novità rispetto al passato è quella di aver riconosciuto la presenza di altri soggetti, oltre a Pelosi, sulla scena del crimine, grazie agli accertamenti scientifici che hanno identificato cinque profili genetici sconosciuti, ha affermato l'avvocato Stefano Maccioni, difensore di Guido Mazzon, cugino di Pasolini, e unica persona offesa presente nel procedimento. A parere di Maccioni, però, si è terza l'occasione per indagare sul vero movente di questo omicidio e per tale motivo chiediamo all'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta. Tra i maggiori intellettuali italiani degli anni settanta, il poeta è amato e odiato per la radicalità dei suoi giudizi e per le sue aspre critiche alle abitudini borghesi, ma anche al movimento 60T. Alberto Moravia lo ricorda in una solenne orazione funebre. Pasolini fa discutere anche al di fuori della letteratura e del cinema. Famosa è la sua invettiva contro la falsa rivoluzione e i borghesi conformisti, con la quale si schiera all'indomani degli scontri di Valle Giulia contro il movimento studentesco. L'epocale processo della perizia del professor Faustino Durante dimostrava contro la perizia dei periti del pubblico ministero che era stata l'auto di Pasolini a sormontare il corpo e a determinarne la morte, ma dimostrava anche che tutto quello che aveva dichiarato a processo Pelosi era completamente falso, perché in realtà Pelosi non aveva avuto alcuna colluttazione con Pasolini. Da allora cosa è successo? È successo che Pelosi è diventato un uomo, si è scontato la sua condanna, è uscito, è rientrato, è uscito, è rientrato, è uscito, è rientrato, si è fatto tantissimi anni di carcere per tanti reati, molti anche connessi con la droga. E tra una detenzione e l'altra a un certo punto va in televisione dalla Leusini e racconta appunto un'altra verità, questa verità. Stavamo lì, siamo stati aggrediti, non so chi fossero, ho cercato di difenderlo, l'hanno massacrato, non so chi erano. Da allora le interviste di Giuseppe Pelosi sono state 648.33 periodico in cui ha detto un sacco di cose diverse, si è contraddetto 3.000 volte, ha continuato a mentire su molti particolari, a mischiare verità e menzioni. È morto a Roma Pino Pelosi, l'uomo condannato in via definitiva per l'assassinio di Pierpaolo Pasolini, ucciso nella notte tra il 1 e il 2 novembre del 1975 a Ostia. Con Pelosi, morto a 59 anni per un tumore, se ne va l'ultima possibilità di conoscere la verità sulla morte dell'intellettuale friulano. La verità giudiziaria consegnata nel 79 alla storia del paese vuole che quella notte di novembre, Pelosi, 17 anni, in complicità con ignoti, abbia assassinato lo scrittore, passandogli addosso a bordo di un Alfa GT dopo un incontro a sfondo sessuale sul litorale di Ostia. Pelosi, detto Larana, disse di aver fatto tutto da solo. Ma restano tante le contraddizioni e i vuoti della sua versione. Prima tra tutte quella della presenza di altre persone quella notte, presenza confermata dall'analisi del DNA seguita alla riapertura dell'inchiesta. Molti cambi di versione di Pelosi affidate a deposizioni ufficiali o a libri sulla vicenda. Nel 1975 dichiarò ad esempio di essere stato assalito da Pasolini e di averlo colpito per autodifesa, lasciandolo poi a terra sulla spiaggia e fuggendo a bordo dell'Alfa Romeo dello scrittore. Cresciuto sulla via Tiburtina, tra gang di quartiere e frequentazioni pericolose, Pelosi entrò e uscì dal carcere numerose volte, per reati minori. Con la morte di Pelosi se ne va anche l'ultima possibilità di avere una verità completa. Sì, sostanzialmente Pelosi era l'unico che avrebbe potuto ricostruire la verità di quello che era successo quella notte del 2 novembre 1975 all'Eteroscalo. Che tipo era Pelosi? Pelosi era un ragazzino di borgata, deviato, con tendenze criminali, piccolo criminale, furti, cosa del genere. E poi devo dire che ha continuato anche da grande perché è stato in carcere, entrato e uscito diverse volte. Sostanzialmente era uno che aveva paura, aveva paura di dire la verità, perché probabilmente copriva persone che lo intimidivano. Avrebbe però potuto farlo quando i suoi genitori erano morti ed erano passati quasi 30 anni dal delitto. Non lo ha fatto, perché non lo ha fatto? Perché cercava sempre pubblicità. Non dimentichiamo che in una intervista che fece la RAI, tra virgolette sconvolgente, ma in realtà disse delle cose che si sapevano, disse che aveva commesso l'omicidio con i Borsellino, i Borsellino. I Borsellino erano morti e quindi era una pseudo verità. E beh, in quell'intervista si dice che fu pagato molto, quindi già quell'intervista che passò per un'intervista straordinaria, perde di valore, ma non si sa che poi l'ha fatto soltanto per Danaro. Poi non disse niente di nuovo, peraltro. Quindi quell'80% di verità a cui si riferiva lui è verosimile? che è stata detta all'80%, no, molto meno. Molto meno. Sì, la metà, 50%. Vogliamo lavorare, non vogliamo rubare. Promesse vane. Se il Comune non sblocca i fondi, questi rimarranno a secco la cooperativa. E come rimangono a secco? La banca non gli dà più niente. Noi non prenderemo i messi di vendita. Che facciamo? Diciamo l'attività principale, però se parliamoci chiaro, anche se c'è un velo di pietà anche sulla sua morte, la sua principale attività era un po' il crimine, faceva piccoli reati. E poi cercava pubblicità attraverso persone che si prestavano, sempre sfruttando e utilizzando l'omicidio di Pierpaolo. E per questo non l'ha mai detto tu? No, ma poi ha contribuito in questi ultimi anni a confondere le acque, perché ovviamente chi aveva bisogno della pubblicità di una settimana, perché si parlasse sui giornali o di due ore perché andasse sul titolo di un giornale, beh, questo ha confuso ancora di più le acque. Ma chi era Piero Pelosi? Uno che ha fatto da esca? Sicuramente, beh, quando io mi occupai immediatamente delle indagini, vidi il corpo di Pierpaolo, che era maciullato, vidi Pelosi a distanza di qualche ora e Pelosi era tranquillo, era fermato con i vestiti che aveva, sì, completamente puliti, quindi non era accreditabile la versione di una lite furibonda. E quindi da lì si capì che però si era inattendibile. Quella sentenza di condanna la Procura di Roma fece appello per il concorso con i gnoti. Eh sì, questa è la cartina di Tornasole che spiega perché la Procura Generale di Roma, perché era stato avvocato il processo, la Procura Generale di Roma non aveva non solo la volontà di accertare la verità, ma aveva la netta volontà di non sapere chi erano gli esecutori perché dagli esecutori si sarebbe potuto arrivare ai mandanti. Direi che se uno fa un'analisi, non tanto degli articoli scritti, ma ancora una volta della iconologia, cioè della scelta delle immagini, della trasmissione attraverso le immagini, ci si accorge ad esempio che c'è una foto che ossessivamente viene utilizzata in maniera omogenea da gran parte dei giornali. Poi possiamo molto sommariamente dire che i giornali schierati a destra insistono chiaramente sul corpo martoriato, ma non martoriato, cioè morto, e sul delitto di periferia, sul delitto ignominoso in un ambiente, in un contesto ignominoso. Mentre invece quelli di sinistra addirittura già compiono un desiderio straordinario, cioè vanno a recuperare immagini addirittura sorvidenti e straordinariamente vive di Pasolini, in realtà nella consapevolezza che Pasolini è vivo, è vivo nelle parole e nell'ammirazione che questi hanno avuto e continuano ad avere nei confronti del poeta. una delle immagini ricorrenti è quella del corpo di Pasolini in mezzo a questa radura polverosa ricoperto da un lenzuolo insanguinato e la gente che lo sta guardando. In realtà nella lettura che noi oggi ne possiamo fare, leggendo le immagini come incoscio collettivo della macchina fotografica, è queste persone che guardano e sono gli stessi tra virgolette fautori di quel delitto, cioè del desiderio di delitto. Direi che l'atmosfera delle foto scattate intorno al corpo di Pasolini è un'atmosfera che continua quell'elemento di offesa dei confronti del corpo. Sorrisi, sorrisette, battutine. Direi, mi dispiace usare questa espressione, gli sta bene la morte semplicemente di un frocio. Allora si usava molto dire di un maiale, lo sgozzamento in realtà di un maiale. E credo che se noi sfogliassimo tutte le prime pagine dei giornali, nella impaginazione, negli ingrandimenti è molto chiara subito questa posizione. Cos'è interessante dei giornali del 3 novembre, del 4 novembre? Il fatto che in quel momento noi abbiamo l'eco dell'uccisione che continua, cioè i giornali continuano ancora ad ucciderlo attraverso le immagini, sarà soltanto nell'elaborazione di questo lutto, che è, secondo me, l'elaborazione di una colpa che noi cerchiamo di cancellare questo elemento crudele per farlo diventare invece un elemento da martirio. Uno dei problemi con i quali ci si è scontrati nel corso di questi lunghissimi 40 anni della morte di Pierpaolo Pasolini, oltre 40 anni, è stato capire quale fosse il movente. In realtà nel corso di questi decenni si sono accavallati molti moventi possibili e tutti sono stati indagati da giornalisti, da scrittori, da trasmissioni. Si è parlato a loro dal primo movente che è un furto finito male per reazione dello scrittore. Un altro movente è stato fornito da uno di questi strani personaggi che all'epoca costituivano la fauna di Termini. Libero Malusà parlò di una vendetta da parte di Papponi della prostituzione omosessuale di Termini che avevano voluto massacrare Pasolini, che faceva troppe domande ed è anche verosimile, comunque per quello che era Pasolini, che lui andasse in giro a fare molte domande, era uno che faceva domande su tutto e pericolosamente. Poi non ci sono elementi però per affermare che si fosse arrivati fino a questo punto. Oppure si è parlato del punto 21 e di Petrolio, un appunto che sarebbe sparito, una delle parti dell'ultimo libro che è uscito postumo di Pasolini, un capitolo forse scomodo ma che in realtà non ha letto nessuno e proprio a causa di quello che Pasolini avrebbe voluto scriverci, sarebbe stato attratto in una trappola e quindi massacrato. La verità è che ognuno di questi elementi non ha portato ad oggi all'individuazione sicura, forse anche perché su tutti questi elementi si è parlato tanto e si è fatta moltissima confusione. C'è in Italia un grande desiderio di complottismo quando non si riesce a spiegare qualche cosa e questo forse è allontanato da quelle che potevano essere le spiegazioni più semplici. Alcune pizze del film Salò vengono rubate insieme a pizze di altri film negli stabilimenti della Tecnico Honor e attorno a questo furto si sviluppa un rapporto che Sergio Scitti mantiene con questi presunti rapinatori che chiedono ovviamente un riscatto. Ma il dato importante è che il giorno prima di essere ucciso Sergio Scitti ha un colloquio con Pasolini e gli dice quelli che hanno fatto il furto non sapevano che c'era anche il tuo film e te lo vorrebbero restituire. Questo lo dice Sergio Scitti. Pasolini sembra addirittura contento di questa cosa perché dice beh vedi in quel mondo, si riferisce ovviamente al mondo della criminalità, quindi al mondo del sottoproletariato romano, mi stimano se me le vogliono restituire. Ecco, noi possiamo ipotizzare che Pasolini avesse nella testa il recupero di quelle pizze a cui teneva abbastanza perché poi è vero che poteva sostituirle e poi è quello che accade, in qualche modo le sostituisce con riprese fatte da altri punti di vista, ma a quelle teneva particolarmente. Quella sera poteva essere un'occasione di incontro per quello scambio? Esatto, quindi lui incontra Pelosi perché Pelosi probabilmente, se è vera, se è vero questo, questa scena che noi, questo scenario che noi stiamo ricostruendo perché Pelosi poteva essere il tramite per l'incontro con chi aveva fatto il furto o sosteneva di averlo fatto. E quindi avrebbe fatto un po' da esca. Esatto, avrebbe fatto un po' da esca. Ecco che, se è vero questo scenario, noi dobbiamo fare una riflessione sul luogo dove è stato ucciso. Allora, viene da chiedersi perché all'idroscalo? Qui c'è una considerazione che va fatta e che a me piace fare, sottoporre all'attenzione. Ovvero, rifacciamo un attimo, mente locale, su tutto il percorso che Pasolini avrebbe dovuto fare quella sera. Pasolini parte dall'Eur e arriva alla stazione Termini. Pasolini carica sulla macchina Pelosi, fa un giro di una mezz'ora, durante il quale probabilmente parla con Pelosi, se è vero lo scenario proprio dell'incontro che si preparano ad avere con i presunti o veri rapitori delle pizze. Poi lo riaccompagna perché Pelosi deve dare la chiave della sua auto a un amico. la macchina è parcheggiata a Piazza della Repubblica o lì intorno. Dopodiché si va al Biondo Tevere, quindi si cambia nuovamente quartiere, al ristorante. Pelosi mangia, Pasolini continua a parlare con lui, dopodiché imboccano lo Stiense. Qui c'è già un elemento strano perché sarebbe stato più facile prendere appunto la Cristoforo Colombo. Comunque imboccano lo Stiense e se Pasolini non fosse morto avrebbe poi dovuto riaccompagnare il Pelosi a sette ville di Guedonia e dopodiché sarebbe dovuto tornare all'Eur, a via Eufrate dove abitava. Per fare tutto questo percorso in un giorno, in una notte di novembre, una notte che fra l'altro quella era stata una notte fredda, in ogni caso per fare tutto questo percorso ci sarebbero volute due ore e mezza, due ore e quaranta. Allora adesso la domanda sorge spontanea. Per consumare un rapporto di cinque minuti, due ore e quaranta di viaggi, di spostamento. Lei pensa che Pasolini era un perseguitato? Vede, lui andava cercandosi dei guai per la verità, non parla adesso della sua opera ma anche un po' della sua vita spicciola e allora è chiaro che sia stato a mio avviso un po' forzato, sia il dargli addosso giudizialmente, in fondo ci sono delle persone di cultura che vanno giudicate dalla storia e dal tempo più che non dagli strumenti che sono validi per la gente comune, però è stato anche molto esagerato a mio avviso il volerne fare una specie di simbolo polidio, anche perché tra l'altro quelli stessi che lo erigevano a simbolo poi si trovavano contraddetti dalla medesima attività. Quando siamo alla fine Pasolini era ormai vezzeggiato da tutti, vezzeggiato da tutti. è ormai vezzeggiato sia dagli uomini del cinema, sia dagli uomini della letteratura e sia dalla cultura italiana, per cui i suoi articoli si leggevano sul Corriere della Sera ed erano sempre articoli di grande rilievo, fino a che già molto tempo prima di quello che poi fu l'omicidio di Aldo Moro, lui voleva processare la democrazia cristiana e la voleva processare veramente, sul serio e sulla base di accuse precise che gli muoveva e muoveva a chi in quel momento aveva abusato della democrazia per portare l'Italia in una situazione che veramente era una situazione che avrebbe portato poi al fallimento di un'intera cultura. Allora io penso questo, che il fascismo, il regime fascista non è stato dato in conclusione che un gruppo di criminali al potere e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere nemmeno a scolfire lontanamente la realtà dell'Italia. Ora invece succede il contrario, il regime è un regime democratico, però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della civiltà e dei consumi invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia e allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere della civiltà e dei consumi che sta distruggendo l'Italia e questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni, è stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggersi, distruggere e parire. L'idea del dittatore che ti vuole far fuori è quella che la tua mente non funziona più, quindi qualcuno sapeva che per non far funzionare una mente bisogna uccidere, non basta tenere una persona anche in galera, anche nella peggiore delle galera, bisogna uccidere, quindi Basolini doveva essere ucciso per chi era suo nemico e per chi non intendeva che l'Italia potesse in qualche modo, anche lontano, andare verso gli obiettivi politici da lui proposti, quindi c'era una muovente molto forte, non potevano che esserci delle minacce e il comportamento del Basolini era un comportamento che lo esponeva naturalmente a queste cose, quindi quando poi Pelosi a distanza di anni è intervenuto con chiarezza per dire esattamente quello che successe, che è molto più evidente oggi sulla base di quello che lui ci dice rispetto a quello che apparve allora, dove c'era questo comportamento incongruo di questo disgraziato che in realtà non aveva fatto niente se non andare in quel posto con Pasolini e poi fuggirne via dopo che le cose fossero avvenute, quindi lui anche dopo questo non è successo niente perché lo Stato italiano ha deciso che la morte di Pasolini si deve solo ad un incidente tra omosessuali, laddove invece è evidente e chiaro come un libro che i colpi ricevuti da Pasolini furono colpi sproporzionati alla sua capacità di difesa e che quindi venivano da un intervento molto più forte e poi complicato con l'uso della macchina che l'ha ucciso, ma era evidente, ma nulla fu richiesto, avevano il colpevole, il colpevole non poteva parlare perché comunque aveva assistito al fatto che quelli uccidono. A che punto siamo adesso con il caso Pasolini? Devo dire che il caso venne riaperto ufficialmente nel maggio del 2010 e nello stesso mese vennero incaricati i RIS di Roma affinché esaminassero quei reperti custoditi presso il Museo Criminologico di Roma, reperti che riguardavano ovviamente l'assassino per Paolo Pasolini, quindi gli indumenti di Giuseppe Pelosi, vi erano contenuti in questi enormi scatoloni, gli indumenti di Pier Paolo Pasolini e anche le presunte armi utilizzate, oltre a vari effetti personali sempre riguardanti il regista poeta. Su questi indumenti, su questi reperti vennero effettuati gli esami scientifici da parte del RIS che hanno portato a delle conclusioni molto importanti perché hanno cambiato la storia dell'omicidio di Pier Paolo Pasolini. Adesso possiamo dire che sulla scena del delitto vi fossero presenti più persone, vi sono delle tracce molto significative ed in particolare quella messa in evidenza dalla dottoressa Marina Baldi è la traccia che si riferisce a Gnoto 3 ritrovata sulla maglia a carne di Pino Pelosi che portava quella notte e sarebbe una macchia frammista, quindi sangue di Pasolini e sangue di questo Gnoto 3, quindi potremmo dire, possiamo dire sicuramente che quella macchia appartiene e vi è un DNA che appartiene a una terza persona diversa da Pino Pelosi e Pier Paolo Pasolini. Oltre a questo ovviamente sono stati esaminati anche gli altri reperti e ci sono due in particolare molto importanti dove si sono rinvenuti tracce di Gnoto 1 e Gnoto 2, ovvero sia riguardo il plantare trovato nella macchina, nell'Alfa GT di Pasolini, un plantare che appartiene quindi a una persona sconosciuta e che la cugina Chiarcossi già nel corso del primo processo sosteneva di non averlo visto la mattina in cui lavò la macchina, l'autovettura del cugino e su quel plantare vi sono ovviamente delle tracce di sudore che appartengono a una persona sconosciuta e a questa persona potremmo fare, dovremmo accertare a chi appartiene anche a quel plantare. In più sui Gintze di Pier Paolo Pasolini all'interno dei Gintze vi è una traccia ematica che lascia pensare presumibilmente che appartenga a un'ulteriore persona, quella traccia ematica, che evidentemente si sia ferita nelle vicende legate all'aggressione e quindi all'azione omiciliaria. Sappiamo se per questa traccia ematica è stato estratto un DNA e se è un DNA completo? Sì, è stato estratto un DNA completo e noi abbiamo ben tre tracce quindi. Abbiamo quella relativa ai jeans interni utilizzabile, quella relativa alla maglia di lana di Pino Pelosi e quella relativa al plantare. Ora la nostra richiesta come difesa della persona offesa è stata quella di chiedere nuovamente alla Procura della Repubblica di Roma, personalmente al Dottor Pignatone e al Sostituto Procuratore della Repubblica, Dottor Francesco Minisci che aveva riaperto l'indagine nel 2010, di approfondire queste tracce. Non dico che si debba fare un numero di tracce di accertamenti pare a quelli di Garlasco, migliaia e migliaia, ma perlomeno qualche centinaia di DNA in relazione a quella che era la malavita romana dell'epoca, penso che un omicidio del genere lo richiederebbe. Lo richiederebbe perché una volta accertato coloro i quali effettuarono materialmente l'omicidio potremmo iniziare a parlare veramente anche di movente e potremmo risalire veramente la cacchina, altrimenti rischiamo di fare dei discorsi del tutto nel vuoto. Quindi ora morto Pelosi è una verità che andrà a cadrare nell'obbligo? Sicuramente sì, restano pochissime probabilità a meno che, non so, per esempio Gionni Lozingaro che potrebbe avere qualcosa a che fare, io l'ho detto sempre, bisognava fare un esperimento giudiziale per esempio per vedere se il plantare che era stato trovato sulla macchina di Pierpaolo era un plantare che apparteneva a Gionni Lozingaro che era claudicante perché era stato ferito in uno scontro a fuoco con la polizia e questo non è stato fatto, non credo che Gionni Lozingaro se è implicato parlerà e racconterà qualcosa di importante. Il movente dell'omicidio Pasolini, sappiamo che erano più persone e che Pelosi non vi ha partecipato attivamente, questo si può dire no? Beh, Pelosi, no, non siamo certi neppure di questo perché Pelosi per esempio guidava la macchina e la macchina passò sul corpo di Pasolini che non era nella direzione dell'uscita Pelosi fece una deviazione, secondo quello che dice Pelosi eh, guidava lui, fece una deviazione e sorpassò il corpo di Pierpaolo Pasolini, quindi voglio dire, Pelosi certamente è implicato in prima persona, nell'omicidio parlo. Non si può parlare della morte di Pasolini senza tenere presente questo clima di odio che c'era intorno a lui, un clima che lui avvertiva, avvertiva chiaramente e tutto questo lo turbava. Io francamente la penso come Paolo Mieli, nel senso che non credo a questa seconda ipotesi, all'ipotesi del complotto. Io credo che Pasolini sia stato ucciso dalle persone che lui aveva sempre amato, ovvero da piccoli criminali sottoproletari e sia stato ucciso perché. In realtà la mia ipotesi è che fu ucciso senza una ragione precisa, perché si poteva uccidere, perché intorno a lui si era creato un vuoto. Il suo diventare più critico, più feroce nei confronti della politica, nei confronti della società italiana, lo aveva isolato ancora di più. Anche quelli che forse gli erano più vicini dal punto di vista ideologico, in qualche modo lo avevano abbandonato. Ecco, c'era un clima per il quale Pasolini era stato isolato e quindi poteva essere ucciso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.